Fra mi hai chiuso dentro che cavolo non riesco a uscire Ho visto una cosa che voglio andare subito sto andando Belle gentelle di Shikoku io sono Luke e oggi ragazzi abbiamo preparato un video super fighissimo per voi insieme a Fra E oggi ragazzi farò una reaction al suo mondo che ha creato nelle live di Minecraft Io ragazzi non sono mai entrato in live perché ci siamo messi d'accordo e mi ha detto Non entrare mai 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 nelle live Che così faremo la reaction super fighissima del mondo che abbiamo creato insieme a tutti i sushini Ragazzi vi devo dire due cose velocissime La prima è che dobbiamo arrivare assolutamente a 4 milioni di piacere sotto questo video Quindi facciamo diventare tutti quanti blu il pollicione qua sotto E la seconda è che anche voi ragazzi potrete vedere o aiutare a fare questo mondo Se partecipate alle live saranno sia su youtube che su twitch ragazzi Mi raccomando sono tutti i giorni non perdetevele E detto ciò ragazzi prepariamoci per la reaction al mondo più figo di sempre Buona visione Ma cosa ma sei un sushino Guarda dietro Cico Ma guarda il mio Cos'è quella cosa? È il sushino No il sushino col No Questa qua praticamente è un server enorme Nel quale faremo un sacco di cose Infatti ci sono un sacco di portali E per il momento abbiamo fatto solamente la survival Che è ancora ovviamente tutta quanta da scoprire e da fare eccetera eccetera Però faremo un sacco di cose tipo factions Qui per esempio c'è già anche tipo il negozio Quelli tipo quelli che saranno abbonati al canale per esempio Avranno anche degli scoti nel negozio Faranno un badge VIP Tutte queste cose qua così Ma che cavolo C'è la lobby Ma va migliorata ancora tanto Sì sì ma fai conto che dovremmo fare anche questa statua Sushino craft Qui invece faremo tipo un super sushino Hai presente il sushino quello delle nostre magliette? Ah ah Lo facciamo qua enorme Ah no cacchio qui ho la scritta Non ce l'ho Aspetta aspetta Ve lo porto subito ragazzi così lo vedete Tipo lui Eccomi qui sono tornato Che cosa mi fai vedere quindi? Facciamo un po' Faccio vedere a casa mia Vieni con me Vieni con me Arrivo arrivo Portati Allora praticamente Quando entrerete Ovviamente ragazzi trovate in descrizione l'IP del server Dovete semplicemente inserirlo nel multiplayer E potrete entrare tutti quanti Possono entrare quelli che hanno Minecraft Premium Ok quindi mi raccomando Tutti quelli che hanno Minecraft Premium Devono scrivere nei commenti Banana verde Banana verde Oh cacchio non ho l'Optify Non posso farlo zoom sulla tua faccia brutta No Oh cacchio No Ho già preso danni Vieni con me e ti faccio vedere Oh cacchio c'è già un ragno che vuole picchiarmi Eh sì però io sono forte Quindi l'ho ammazzo Guarda qua Guarda qua Ok Ho una ragnatela Ho queste cose qua bellissime Ah praticamente ognuno fa la propria casa Bravissimo Esatto Che figata Proprio così Proprio così Aspetta che rubo qualcosa No non posso aprire il gesto Sei pronto Fermati fermati Sei pronto? Vai sono nato pronto C'è la piscina C'è la piscina C'è la piscina E vieni a vedere qua Vieni a vedere qua Con i blocchi e con i giri gori Mamma mia Ci sta perfino Guarda C'è la una bistecchina C'è un barbecue bello Dai Con anche la cosa per far uscire il fumo Bravissimo Piru Piru No non posso chiudere le porte Eh perché è acclaimato Quindi non puoi Praticamente Questo qua è il soggiorno Con le cose carine Con quello che lì c'è la cucina Qui c'è il tavolino Mamma mia Cioè dobbiamo mettere tipo gli NPC Però qua ci facciamo le cose E guarda qua DJ Tommy 07090 Hai presente quando tipo vai a ballare in discoteca Ci stanno tipo le cose per fare le foto? Ah che figata Ci fai le foto lì così Ragazzi sorridiamo Cheese Fate uno screen tag atti su Instagram ragazzi Cheese E tipo quando fa caldo Tipo di estate Tu prendi Vieni qua E fai quella roba qua E diventa un ventilatore Ma che cosa Ma perché Questo qua praticamente è una televisione Cioè c'ho il cinema pure in casa Mamma sto qua non si salta pollici Sì E qua c'è manga con la sua fantastica Loli Manga e la sua Ma perché Non capisco Ma preferisco non capire Proseguiamo Allora poi qua praticamente ci sta una sorta di osservatorio Ci sono i tavolini Le vedi cose Con le stelle Qua se tu guardi fuori Vedi dritto Guarda le stelle Guarda le stelle Non si vede niente Wow Che figata La nuova Codice chic Eh esatto ragazzi Guardate No Dritto dritto si vede proprio il codice chic Welcome to my house baby Raga questo qui è MTV Tu non sei pronto Fermati Tutto in cobles Un ragno a caso Cosa ci fa qua un ragno In aria poi tra l'altro Vieni a vedere C'è Magikarp Come c'è Magikarp C'è preso un merluzzo C'è pure Nemo Guarda dentro Ma cosa dove li avete catturati Eh Aspetta Tra un po' me lo devo mangiare Nemo Perché sto vorrendo di fame Vieni da me Faccio vedere la mia stanza da Okage Va bene Vai Dove sei Mamma mia Con le porte segrete Mamma mia Dimmi te se non è da Ma questa è la stanza del Okage per davvero Con la mappa dietro No raga lo voglio fare anch'io in survival Questa l'abbiamo fatta ieri sera Bellissima È bellissima Che figata Oh cacchio È veramente spettacolare Che figata E poi adesso Qui la miniera Io ho La miniera La fornaccia automatica Sono stato aiutato da per esempio Super Kevin Che mi ha fatto il circuito di Redstone Quindi se io per esempio Vado a mettere qui del materiale E sotto Del combustibile E schiaccio Tipo aspetta Vediamo se ho della roba Per far vedere Sì ho della sabbia sotto E della roba così Facciamo un po' di vetro Se io faccio così Che figata Capito C'era solamente sei blocchi di sabbia Quindi si sono accesi solamente sei cosi Però in automatico Quando io praticamente ho finito lì Di cuocere tutto quanto Mi finisce tutto quanto L'ho tra quella cesta Ecco Già che ci sei Mi puoi cuocere un po' di cibo Allora Prima di andare giù a mangiare Ti voglio far morire di fame Andiamo giù No Questa qua è una stanza Che invece è quella di Enchant Che mi è stata fatta Da Entity e Kevin In pratica Mi hanno aiutato praticamente tantissimo Sia Kevin che Entity Che sono veramente bravissimi Quanto ci hanno messo a fare tutte le canne da zucchero Per fare tutti i libri Per fare tutta sta roba Qua ci sta un ascensore che è bellissimo Quindi devi buttarti giù Occhio che brucia sotto eh E perché brucia? Perché c'è la magma block Se no non te lo fa fare Ah Qui invece questo posto è stato fatto da Dick Ma quanto è grande? L'acqua che scende Tutto il ruscello Eccetera eccetera Mamma Allora E di qua invece ho le farm Quindi andiamo a destra Ti faccio vedere la mia farm E prendiamo un po' di carote Scusa sono andato a sinistra Eccomi Vediamo la farm Finalmente ragazzi Sono affamato Tutto al chiuso Mamma mia E quindi prendiamo tutto quanto Qui così Oh finalmente posso nutrirmi Ma che figata l'ascensore Ti piace? Ma è fighissimo No che palle Io volevo scappare Per farti un troll Per andare a scappare Che non mi trovavi Ma ho tutte le porte bloccate Non puoi scappare Che cavolo sta porta Usciamo Ok Sono libero raga Ce l'ho fatta Come hai visto prima Mamma mia Qua ci sta la piscina Uno zombie Allora mio Ciao Ho visto una cosa Ho visto una cosa Che voglio andare Subito sto andando Non ti vedo Non ti vedo Dove sei Ti ho perso Sono qui E ho visto una cosa Troppo bella Ma qui dove? Qui Non ci credo Che fosse tipo una Beh la cosa bella è che ora Ci si butta Ma cos'è? Quello delle piscine Mangiamo mentre cadiamo Oh mamma mia pizzeria Che figata La cosa più bella ragazzi è il codice scicola in fondo Non so chi l'ha fatto Ma sei il numero uno Ora vado subito a vedere il castello di Dig Dov'è? Oddio Dov'è? 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 Eccola Sono morto Ti rubo tutto Ti rubo tutto No Ora ragazzi Sono io il comando Tun 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 Oh ragazzi finalmente Sono Che cosa? Tutto in diamante Dobbiamo andare in casa di Dig Dobbiamo andare in casa di Dig Custurito da Dig non griffare E se io griffassi? Esatto No Mamma mia raga Ma è una città questa Non è un castello È È Un pianeta Namek Che cos'è quella serra? Ok ragazzi come ultima cosa da vedere Dobbiamo assolutamente vedere quella Urca che figata la serra L'unica cosa è che tipo Gli mancano alcuni pezzi Aspetta che gli do Guarda c'è la porta giusto giusto per me C'è un'anatra dentro la porta Scusami Cosa? Ok Ah è ancora in fase di costruzione Un creeper Aiuto Fra Aiuto Vattene via No No Che esplode Eccolo hai fatto esplodere Ma il cacchio Ma che Il bello sai qual è Ah che non distruggono Oh cavoli Oh cavoli Non togliere i cartelli Oh ma ci sono troppi mostri Non togliere i cartelli Aia Basta Brutto zombie Mi hanno lasciato un messaggio Ho letto un Luca da qualche parte Non togliere i cartelli A meno che non sei fra lui Ah ok Allora toglierò questo cartello E No Sti zombie me lo lasciano fare Che cattivo Ok E andrò a piantarlo Vi lascerò un messaggio ragazzi Sarà un messaggio segreto Perché Dovrete tutti quanti andare a leggerlo ragazzi Andrò lontanissimo Scapperò da tutti i mostri No mi uccidono Mi uccidono Mi uccidono Mi uccidono Mi uccidono Ragazzi lascerò il codice qui E dovrete scrivermi nei commenti Cosa c'è scritto Andando su server a leggerlo Ragazzi Noi ci vediamo al prossimo video Brotti pezzi Ha 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 Grazie a tutti.